Musica Troppe radiazioni, dobbiamo fare il giro Seguimi e mantieni un basso profilo Attenzione, ci sono sacche radioattive in tutta la zona Non entrare troppo in contatto, sei bollo Attendi Battuglia nemica, dritta davanti a noi Fai basso e muoviti lentamente Grazie alle nostre tute non riusciranno a vedere Questa è un genere a spiegà Via, non freddy, stiamo patruonando, stiamo estandando Ma come patruonando? Poi non c'è un nome di 120 km Pustare situazione Sera, Zahaia ha pagato una buona Ci sono belle delle ore che patruonare Per questa terribire Sebbia sapere che ci fanno bene Seguile sorprendere Buonanotte Avanzare Sperta Fai Se faremo il giro saremo più protetti. Quattro bersagli all'interno. Non pensarci nemmeno. Aspetta qui. Bersaglio vicino all'auto. Eliminalo in silenzio, lascialo passare. A te la scelta. Ok. Via. Vai. Non muoverti. C'è una vedetta sul campanile della chiesa. E una pattuglia in arrivo da nord. Andiamo più in alto, la vista sarà migliore. Hai la vedetta sottotiro. Stai cercando nel campanile sbagliato. È quello a destra. Plendito. Bersaglio in arrivo da nord. Eliminalo in silenzio, lascialo passare. A te la scelta. Ok. A te la scelta. Ok. Via libera. Via libera. Hai sentito? Elicottero. Elicottero nemico. Sta giù. Andiamo. Andiamo. A terra. Ora. Calma amico. Sono i troppi. Lascialo passare. Mantieni un basso profilo e non sparare. Cerca di prevedere i loro spostanti. Se devi aggirare un ostacolo, fallo lentamente a passo regolare. Niente forse bruci. Niente forse bruci. Segui. Pare che abbiano già eliminato gli uomini che non potevano comprare. Andiamo più in alto, la vista sarà migliore. Si. Ma non è neanche passare in osservati tra loro. Togati. che cosa è vero La parola furtivo, non si dice niente, vero? Muoviamoci. Oh, cielo. Ecco come si fa, andiamo. Radezci делать эту собаку с сумасшечными силами. Ты их недооцениваешь, товарищ. Какая ставка? Да, когда я получу деньги за эту работу, я куплю мотоцикл и буду ездить по этому району. Думаешь, американцы начнут войну с нами, пока мы слабы? Эта сторона катится вниз к развалу. Все возможно. Оставь так у них. Группу比較 поверхности. Оставь так у них. Оставь логово. Кого? Кого? Мерня. Sì. Andiamo. Sì, non mi credo, non mi credo. Abbi pazienza, non fare stupidaggi. Aspetta, aspetta, ora. 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 Ora è una città fantasma. Non ho mai visto nulla del genere. Avanzare. Di qua, andiamo. Aspetta, 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 ora. Aspetta, 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 ora. Aspetta, 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 ora. Aspetta, 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 ora.